Ciao da Ruggero, cosa fai quest'estate per tenerti allenato? Magari ti trovi in quella fase dell'anno in cui sei sempre in giro a suonare per cui non pratichi più come durante l'inverno oppure sei in vacanza e non hai altro che un paio di bacchette e un pad per cui hai degli esercizi che ti tengano in forma, allenato, in modo da non calare la prestazione delle tue mani? Ecco, se non ce l'hai ti fornisco questo mio vecchio esercizio che è un warm up che racchiude tutte le tecniche che noi usiamo quando suoniamo ed è un esercizio rapidissimo, ci vogliono 5-6 minuti a farlo la particolarità di questo esercizio è che va fatto con un metronomo progressivo cioè con la tecnologia moderna abbiamo delle app, per esempio per il cellulare che impostate a una velocità di partenza accelerano gradualmente ti farò vedere quale app uso io, ma poi tu trovane una simile sono tutte gratuite, non c'è problema che faccia la stessa funzione questo esercizio è un warm up che io uso spesso prima di salire sul palco se posso oppure prima di cominciare una sessione di studio quando ho pochissimo tempo questo esercizio contiene un misto delle tecniche fondamentali che usiamo quando suoniamo i singoli, i doppi, gli accenti e gli sticking e il finger control è in due versioni, una versione binaria e una versione ternaria lo scopo di questo esercizio è quello di fare un numero di giri completi cioè di non fermarsi a metà con il sistema dell'accelerazione del metronomo per cui quando arrivi in fondo e sei già al limite è inutile che inizi un altro giro perché il metronomo continuerà ad accelerare e non arriverai all'ultima riga che è quella più tecnicamente dispendiosa se tu riesci a fare più giri di me partendo a 60 e aumentando un bpm ogni 3 secondi posta un video qui sotto facciamo che sia una sorta di sfida estiva dove nessuno vince nulla e nessuno diventa il batterista più veloce del mondo è solo per vedere uno a che punto sta tecnicamente te lo dico perché? Perché io tecnicamente non sono cintura nera di velocità se mi superi io ne sono felicissimo e sono curioso di vedere come fai ad andare più veloce di me per cui fai un video anche con il cellulare e postalo nei commenti qui sotto ok? E facciamo girare per un mese questa sorta di sfida estiva al warm up più veloce d'Italia ok? Adesso ti resta da fare solo una cosa clicca nel link qui sotto e accedi al pdf gratuito associato al video che vedrai sempre nel link dell'esecuzione completa del warm up come lo vedi qua alle mie spalle ciao e mi raccomando se riesci a farlo più veloce di me faccelo vedere ti aspetto buona estate ciao